La minoranza ribadisce compatta la volontà di un consiglio comunale straordinario sulla crisi ma nel frattempo si attende risposte dal sindaco Peppino Ranalli. Tra le ipotesi c'è quella di un'aggiunta di larga intese. A prospettarla sono le liste di maggioranza. Certo che partecipo noi sul Mona e pronti per cambiare. Ma non Luigi Santilli che riunitesi nella serata di sabato hanno proposto un allargamento alla coalizione di Sulmona Unita che dal canto suo non esclude questa possibilità ma precisa non vogliamo fare la stampella di nessuno perché siamo contrari ad ogni ribaltone ma questa situazione di immobilismo per volere di qualcuno deve finire, hanno detto in una conferenza stampa Gianfranco Di Piero, Mimmo Di Benedetto e Mario Sinibaldi. Non siamo disponibili a sostituire nessuna componente di questa maggioranza con il gruppo di Sulmona Unita. Noi ribaltoni non lo facciamo. Non ne abbiamo mai avuto intenzione di fare sin dall'inizio di questa legislatura. È chiaro che riteniamo che le elezioni immediate o peggio un anno e mezzo di commissariamento di questa città, di ulteriore commissariamento di questa città non vanno nel senso e negli interessi di questa città. Quindi qualora questa maggioranza non sia più in grado di amministrare questa città venga in Consiglio Comunale, il Sindaco troverà nella nostra parte dell'opposizione ma penso anche in altri delle forze responsabili che siamo stati finora. Potrà esserci la disponibilità da parte vostra in questo caso? È chiaro che deve essere marcata una netta discontinuità rispetto a questa amministrazione. La convinzione che tornare alle urne rappresenterebbe un danno potrebbe indurre Sulmona Unita a non presentare più ricorso al Consiglio di Stato per chiedere di invalidare le elezioni perché è aperto ora il discorso della giunta di larga intese, ipotesi che accetterebbe anche Nea di Agni del popolo di Sulmona ma dovranno esserci alla base progettualità da definire per dare risultati alla città. Se le dovesse arrivare una proposta di giunta di larga intesa accetterebbe oppure no? Si accetterei con questa disponibilità, una giunta di larga intesa quindi con partecipata da tutti sulla base di precisi progetti quindi che siano caratterizzati dalla progettualità da conseguire, dai tempi per conseguirli e poi ovviamente limitati nel tempo perché può essere solo una giunta per risolvere determinati problemi e non per amministrare ad interim quindi con una data poi elettorale alla quale si deve andare senza altro incontro ma che a mio giudizio non può essere quella delle elezioni regionali. Qualunque sia la decisione del sindaco noi ci apriremo alla città con un'assemblea da indire nei prossimi giorni, ha spiegato Alessandro Luci di Sbic. La situazione è delicata perché nel frattempo si starebbero raccogliendo le firme per la mozione di sfiducia a riferirlo Luigi La Civita di Forza Italia che sabato sera ha detto ho ricevuto la telefonata di Alessio Di Masci il quale ha chiesto la mia disponibilità. A differenza dei suoi colleghi della minoranza La Civita è contrario alla giunta di larga intese ed auspica invece le dimissioni del sindaco per tornare subito al voto. Ufficialmente non ci sono stati passi in avanti, sono arrivate anche telefonate di raccolte di firme anche al sottoscritto per la sfiducia al sindaco, poi sono arrivati in città i big della politica della sinistra regionale, la Pezzopane e D'Alfonso, i quali probabilmente non sono riusciti a risolvere il problema ma queste non sono le soluzioni della nostra città, probabilmente bisogna dirla a chi sta sempre e ci ascolta con chiarezza, con nettezza che è solamente un tentativo di bypassare le elezioni regionali e salvare una manciata di voti ma la città probabilmente non gli interessano le regionali.